enormi, non possiamo pensare che il governo regionale si svegli ogni tanto per fare qualche legge di opportunità come questa settimana, ma sui grandi temi assente. Dove erano e dove sono le riforme della rivoluzione crocettiana? Dove è il futuro tanto atteso? E quei fondi strutturali, quelle risorse che l'Europa ci ha messo a disposizione e che alla fine dell'anno rischiano di tornare a casa? Viviamo in una regione che è divisa fisicamente in due e nella quale non si vede una prospettiva e allora dobbiamo costruire una prospettiva per non essere noi la Grecia dell'Italia.